ti saluto con la pace del signore buon fine settimana oggi 18 giugno 2022 siamo già arrivati a sabato la settimana è finita non so se tu oggi lavori io come postino non lavoro sono a casa ma in ogni caso se lavori ti auguro un buon lavoro e che dio possa benedire grandemente la tua vita il tuo lavoro la tua attività e tutta la tua famiglia amen gloria a dio vogliamo apprestarci a leggere la parola del signore come ogni giorno per poter ricevere il pane vivente che nutrirà la nostra anima amen dice così la parola di dio la fede e certezza di cose che si sperano dimostrazione di realtà che non si vedono senza fede è impossibile piacergli a dio questo testo lo possiamo trovare nella lettera agli ebrei il capitolo 11 il versetto 1 e il versetto 6 il titolo di questa meditazione biblica è questo in relazione alla fede la fede è il grande principio della vita cristiana dall'inizio alla fine siamo giustificati per mezzo della fede e per essa viviamo credere significa riposarsi completamente sull'infallibilità e sulla fedeltà di dio considerando ogni parola da lui pronunciato come più vera di tutto ciò che l'uomo percepisce riposarsi su dio stesso ha un significato diverso dal riposarsi sulle benedizioni di dio non occorre la fede per apprezzare le benedizioni mentre per contare su dio la fede necessaria così proprio per esercitare la mia fede insegnarmi a confidare sono in lui può accadere che dio mi privi di uno o di alcuni dei doni che mi ha elargito e su cui faccio affidamento ciò che importa non è la grandezza della nostra fede ma la grandezza di colui su cui essa si fonda la fede rende presente il futuro visibile l'invisibile una fede messa alla prova è una fede fortificata per dio la fede non è mai troppo ardita la fede avrà sempre l'ultima parola gloria a dio che bel messaggio di incoraggiamento questa mattina si parla di fede ovviamente un argomento che è molto vasto si potrebbe parlare di tante tanti argomenti di tante applicazione ma ciò che importa è questo che la parola fede significa affidarsi fiducia credere in qualcosa e quindi noi anche oggi vogliamo credere che dio è il nostro salvatore che gesù è il nostro liberatore che lo spirito santo è la nostra guida il consolatore e con questa certezza vogliamo andare avanti di valore in valore avendo la certezza che un giorno lo incontreremo faccia a faccia saremo alla sua presenza e con lui godremo l'eternità quindi conviene avere fede anche perché con la fede si possono andare si può andare avanti con meno difficoltà con la fede si può vincere certe battaglie che da sole non si può vincere con la fede è bello camminare con gesù quindi aggrappiamoci a gesù e andiamo avanti fratello sorella amico amica io ti saluto con la pace del signor ti auguro una buona giornata o ancora un buon fine settimana e a dio piacendo ci vediamo domani al solito appuntamento con il calendario cristiano il buon seme un abbraccio virtuale e pace del signore